Ciao per cari, buonessi, lavoratori, ricordo e finici, non riusciamo a leggere la schiena in mese e non prendiamo, c'è questo vecchio, un passato a pagarlo, con la ventanellino per esempio. Bene, ci diamo la direzione di aprire una trattativa con noi e con tutti gli italiani che sono venuti qui stasera a fare la spesa per passare un buon Natale, per ridurre la ventità del pacchetto, uno scopo della ventità del pacchetto sulla nostra spesa. Scopo, 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 scopo. Io ho un koala.